81 sagome a grandezza naturale che rappresentano le morti sul lavoro toscane avvenute solamente nel 2018. Ha infatti toccato anche Arezzo il tour dell'UGL Lavorare per Vivere, ospitato in piazza Sai Jacopo. La Toscana purtroppo non è una delle regioni più attente come tutti, siamo in trend di tutta Italia, perché in Italia nel 2018 sono stati 1133 le morti sul lavoro e sono aumentate rispetto al 2017 di cifre a tre cifre, oltre 150 unità. Quest'anno 2019 sono in aumento in tutta Italia come anche in Toscana, ad esempio a massa quest'anno è morto un ragazzo che aveva un contratto a termine di appena una settimana presso le cave, noi queste cose stiamo combattendo perché la formazione viene prima di tutto, è impensabile mettere un contratto a tempo determinato in determinati tipi di lavoro. Questa iniziativa è partita a livello nazionale, ha fatto il giro di tutti i capoluoghi delle regioni d'Italia ed ora per decisione della nostra Confederazione, il nostro segretario generale Francesco Paolo Capone, si sta facendo regione per regione su tutte le province per sensibilizzare i politici tutti, di qualsiasi colore, i sindacati tutti, le istituzioni tutte, i lavoratori tutti, le imprese tutte, perché quando si parla di sicurezza sul lavoro non ci deve essere distinzione di colore, di appartenenza sindacale, niente. Troppo anche ad Arezzo abbiamo registrato casi di incidenti sul lavoro che hanno portato alla morte dei dipendenti e appunto questo oggi non è accettabile perché le normative purtroppo a volte non vengono rispettate ed è una situazione complicata che toglie al lavoratore anche, sì, il diritto di lavorare lo ha, ma la dignità di lavorare in sicurezza questa non ce l'ha. È importante per questo essere qui, senza bandiere, senza colori, per difendere il lavoro.